I coach dei campini sono destinati vicino a Valerio Vecchio, che è necessario. Cristian, spingi tornavolo sulla gamba. Tornavolo Vecchio sulla gamba, spingi tornavolo. Mastro, no, 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 no. Cristian, spingi tornavolo sulla gamba. Aiutati dal quartiere destro, aiutati dal quartiere destro, come stavi facendo. Iniziamo. Vai, spingi di quella gamba, aiutati dal quartiere destro a spessare il suo. Vai, letta dal quartiere, letta dal quartiere, spingi di quella gamba e entra dentro sulla tua. Presetto per la montagna. Vasto, viola, vai, assunto. Devano per raile e per raile. Vai, Lettigi, li hai fai riservare la tua gamba sotto la sua. Vai, Cristian. Colbrovi, con spingi di due 29. Lunardi, ma, non c'è il Bavano, non posso ancora dare da qui. Vasto, viola, frontiere, assunto. Adriano Fontogna, a venire. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.